Fabio Fognini accede al secondo turno degli Australian Open in corso di svolgimento sui campi di Melbourne. Il tenista ligure ha la meglio sullo spagnolo Munar nel primo scontro tra i due. Un avvio in salita per Fognini che nel primo set si è trovato sotto 3-1 ed è stato costretto ad annullare due set point prima di vincere al tie-break. Stesso risultato anche nel secondo set con l'azzurro che si impone per 9-7 nel tie-break, con la sfida che si chiude infine con il ritiro dello spagnolo sotto 3-1 nel terzo set. Nel prossimo turno Fognini affronterà l'argentino Leonardo Maier. Nessun problema per il numero uno al mondo Novak Djokovic che vince in 3-7 contro lo statunitense Kruger. In campo femminile avanza Camila Giorgi che supera a 6-3-6 la slovena Dalila Jakupovic.